Per quanto riguarda l'Italia, lo scenario presenta luci e ombre. Segnali rassicuranti sono giunti pochi giorni fa in merito ai piani di investimento per i marchi italiani che fanno parte del gruppo tedesco. Ducati, Lamborghini e ItalDesign non verranno toccati dai tagli. Al contrario, notiamo forti preoccupazioni per i possibili effetti dello scandalo sul nostro indotto. Le imprese italiane della componentistica auto hanno da tempo indirizzato una quota crescente delle proprie produzioni verso le commesse tedesche, tant'è che la Germania è il nostro primo partner commerciale, passando per il 25% sulle vendite italiane all'estero. I dati dell'osservatorio della filiera autoveicolare mostrano come metà del fatturato complessivo annuo della componentistica auto sia costituito dall'export. 20 miliardi di euro su 40 miliardi complessivi e di questi ben 4 miliardi derivano dall'export verso la Germania, dei quali 1,5 miliardi sono frutto delle commesse per il gruppo Fosvario. È evidente quindi che, sebbene sia ancora presto per quantificare i danni per il nostro Paese, come il futuro del nostro indotto sia strettamente legata a quello della casa madre.